... Avete fatto spese a quanto vedo? Aspettavamo la fiera. Vi è piaciuto il fatto che la fiera è stata riportata nel centro storico? Tantissimo, tantissimo perché prima era troppo spesso in attività, infatti non venivamo da anni a Mosulio per fare la fiera. Veramente ottima scelta. Io spero che si faccia così anche l'anno prossimo, magari ampliandola, magari su Via Roma, oppure tutto il centro, visto che la fiera è soltanto metà della vita. Invece potrebbe essere tutta qua, anche dentro, come tanto tempo fa. Va bene, grazie a voi. La fiera è stata trasferita in centro, è stata un'idea geniale del nostro caro ex sindaco. Lei cosa ne pensa? Sono d'accordo con quello che ha detto, appena detto Alfredo. Grazie. Come vi trovate voi a venire in centro? Molto più comodo qui rispetto a dove era precedentemente. È molto più agibile come sistemazione. Arriva gente? Sì, sì, sì. Essendo molto più facile raggiungere la fiera qui rispetto a dove era prima, è molto meglio, c'è molta più influenza di gente. Grazie. Uno della Provoca dice come si fa per avere un soccorso, una cosa. E io gli ho proposto, dicendo, stava anche Vincenzo, che si fanno dei punti di raccolta dove il medico, l'infermiere, sta là. Sta da e lo portiamo a Duglia, siamo diventati tutti dalla protezione civile. Tanti anni di avere la fiera al centro di Vincenzo è tutta un'altra cosa, anche per gli anziani è più bello, possono uscire e godersi la fiera. Va bene, grazie. Dopo tanti anni è tornata in centro. La signora non esce mai. No, oggi è uscita. Dopo quanto tempo, Maria, dopo quanto tempo è uscita? Non vedevo la fiera da quando facevo la fiera, verso il mercato. Eh, quindi sono tanti anni che non vedevi la fiera. Oggi sei contenta? Contentissima. A poco. A posto. A poco. Chiedo scusa, per quanto riguarda invece l'attività economica, avete avuto un ritorno da questo voi? Sì, sì. Quindi? Ha funzionato alla grande. Ha funzionato alla grande e abbiamo lavorato di più dei tre giorni della festa patronale. Grazie. E' stato un piacere vedervi dopo tanto tempo. Ciao, ciao.